Ernesto Carbone, il PD, un partito unito attorno alla candidatura di Sergio Mattarella, un Berlusconi che scalpita. No, è un nome straordinario quello di Sergio Mattarella per la sua storia, per la sua storia politica, per la sua storia che permetta personale e per quello che ha rappresentato negli ultimi vent'anni in questo paese. Io credo che sia necessario domani elegere il Presidente della Repubblica col più ampio numero di voti possibile. Mi auguro che da qui a domani ci sia qualche ripensamento. C'è nell'azione del Presidente della Repubblica un campo di maggioranza? Ma no, assolutamente. Il Presidente della Repubblica è una cosa, l'attività di governo, comprese le riforme costituzionali e la legge elettorale, sono un altro campo di gioco.